Un comune della Puglia che ha una tradizione legata alla agricoltura e quindi al cibo e al vino deve puntare su queste due cose importantissime. Il prossimo anno, il 2018, il Mibac, il Ministero dei Beni Culturali e del Turismo, lo ha dedicato appunto al cibo, agli itinerari del cibo e del vino. Questo può essere uno di quei volani che fa di questi piccoli centri dei comuni da visitare, da gustare e quindi dove il turismo deve sicuramente migliorare. Nello stesso tempo, dal punto di vista culturale, un museo che si occupi dell'agricoltura e della tradizione agricola, che poi arrivi fino ai giorni nostri e che faccia scoprire ai ragazzi, ai pugliesi stessi, quelle che sono le tradizioni e la cultura che ci sta dietro, per esempio i vitigni autoctoni. Voi avete un vino importante e conosciuto che è il Nero di Troia. Intorno a queste tradizioni può davvero svilupparsi un'economia che porta turisti e che fa, alla fine diventa un volano, soprattutto per i tanti giovani che devono rimanere su questo territorio, occupandosi di un mestiere bellissimo, che è quello per esempio dell'agricoltura e nello stesso tempo quello del turismo.